L'anno scorso un mio amico doveva fare delle punture di antibiotico e non riusciva a farle da solo perché non si possono fare sulla coscia ma le devi fare sul gluteo perché l'antibiotico è molto denso quindi il lago è grosso della siringa. Allora io mi trovavo in casa con questo mio amico delle scuole medie che è un uomo grande e grosso e a un certo punto lui mi ha detto devo farmi questa inizione ma non riesco perché è sulla coscia e mi fa fammela tu. Io non avevo mai fatto inizioni se non dei pompelmi in terza media quindi non ero molto. Allora ho cercato di sottrarmi e lui mi ha minacciato di morte allora mi sono fatta coraggio e sacchete ho piantato quest'ago nel sedere di questo mio amico e devo dire che si prova un certo piacere perché l'ago anche se è sottile penetra nelle carni come se le carni fossero di burro e questa cosa è andata avanti per una settimana perché doveva fare una puntura ogni otto ore e quindi ne ho fatte tantissime e avendo un po' preso la mano poi è successo che le facevamo con lui stava in piedi stava in piedi un po' chino. A un certo punto ha cominciato a dire delle cose buffe allora mi veniva da ridere quindi mi tremava la mano per cui ho fatto una di queste punture nella maniera peggiore in cui si può fare cioè ho infilato un pezzettino d'ago e poi ho infilato tutto l'ago che fa un malecane quindi lui ha fatto un urlo tipo un gorilla e si è girato con gli occhi iniettati di sangue e mi ha detto ti ammazzo e questa è stata la mia esperienza di infermiera a domicilio.